La vita di Enore Sacco, il pensionato trovato morto carbonizzato nella sua casa di Bressana lo scorso febbraio, non sarebbe finita in modo per così dire accidentale dopo una breve colluttazione al termine della quale sarebbe caduto battendo la testa. Il 75enne potrebbe invece essere stato freddato con un colpo di pistola. Lo testimonierebbe un frammento di proiettile ritrovato accanto ai resti del pensionato e la presunta compatibilità delle fratture craniche con un colpo d'arma da fuoco. È quanto emerge secondo indiscrezioni di stampa dei primi risultati delle indagini disposte dalla procura di Pavia sul delitto di via Gramsci e che hanno portato in carcere al momento tre persone fra cui Omar Cosi, il barista di Bressana accusato di omicidio volontario, distruzione di cadavere e incendio della casa dove sono stati trovati i resti di Sacco e altre due persone che avrebbero avuto un ruolo nell'efferato omicidio Davide Delbo e Sowail Nakbi oltre a un quarto indagato a piede libero. Nel corso degli interrogatori gli indagati seppur con alcune contraddizioni che rimangono hanno sostanzialmente confermato l'accaduto. Nei mesi precedenti Cosi aveva rilevato un bar in paese di proprietà di Sacco impegnandosi a pagare un affitto di 1000 euro al mese. Il canone di gennaio però non sarebbe stato pagato e il proprietario lo aveva minacciato disfratto. La sera dell'omicidio Cosi con la compagna alcuni degli indagati sarebbe andato a casa di Sacco per chiarire ma era scoppiata una violenta lite finita con la morte dell'uomo. Il come è dunque oggetto di verifica per sbarazzarsi delle prove poi. Cosi avrebbe chiesto aiuto agli altri indagati che lo avrebbero aiutato a incendiare la casa e portare il furgone bianco di Sacco nei pressi del torrente Coppa dove era stato ritrovato con gli interni sporchi di sangue.